Un'esperienza all'insegna del benessere e del gusto. Al Rimini Wellness 2024, debutto per It's Snack Time. Campagna di Kellogg's Special Cake ha come ambassador la campionessa olimpica Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coach di grandi mutatori di calibro internazionale. All'evento internazionale dedicato al mondo del wellness, ospitato dalla fiera di Rimini, Pellegrini è giunta a coppia anche nella vita, hanno condiviso la loro esperienza di atleti e la loro passione per lo sport, affiancandosi poi i partecipanti in veste di coach durante le sessioni di allenamento e condividendo consigli e suggerimenti per un workout vincente. È stata fantastica, siamo venuti qua, abbiamo fatto questa lezione, c'era tanta gente entusiasta, l'entusiasmo è qualcosa che ti dà molta carica, però è importante anche dopo l'esercito fisico, anche prima, insomma, ricaricarsi e Special Cake è stata perfetta, adesso mi sento pieno di energia come potete vedere. I fan hanno dunque incontrato i due ambassador dell'iniziativa sotto il palco per un momento di meet and greet tra fotoricordo e autografi. È bello un po' assaporare questi momenti, soprattutto in una fiera del genere dove si sente la carica dello sport e farlo con Special Cake parlando anche di alimentazione e di benessere appunto a 360 gradi è veramente importante al giorno d'oggi. La campagna It's Snack Time ovviamente non termina qui, oltre ai nostri workout vincenti continueremo a parlare di benessere insieme, ma ci vedremo anche il 21 settembre a Milano in occasione del Wanderlust 108. Wanderlust 108 è l'unico evento di Mindful Triathlon in Italia che fonde le discipline di corsa, yoga e meditazione, che è lo Special Cake sarà sponsor di quattro incontri che si svolgeranno nei parchi più suggestivi di Milano, Roma e Venezia. In occasione della tappa nel capoluogo Lombardo al 21 settembre, Pellegrini e Giunta si uniranno alla community di Wanderlust 108.